Di qua? Di più. Di più. Aia. Te l'hai teso qua? Aia. No. Adesso ti aggiusto. Piano uno. Non male, eh? Eh, lo so, mi dispiace. Ecco lì. Ok. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare. La morbida, morbida. Eccolo qui. Due di ore. Eccolo lì. E poi stimoliamo un po' il muscolo a rilassarsi. Oggi è venuta a trovarci Eva che vuole fare un trattamento chiropratico per cercare di risolvere l'emicrania destra, una vecchia sciatica destra che adesso compare e scompare, vi ho detto, no? E poi mi hai parlato anche un po' del colon irritabile. Ok. Qualche domanda prima di iniziare. C'è qualche cibo in particolare che noti? Il glutine, il lattosio. Ok. E li assumi? No. Non più. Quindi li toghi? Però evidentemente c'è anche altro. C'è anche altro, sì, esatto. Non hai mai fatto test di intoleranza? No, ma li so per fare. Ok. Comunque molti cibi mi attivano dei dolori. Ok, perfetto. Allora adesso, in attesa del test, cerco di capire un attimino come si sta comportando il colon e vedere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Iniziamo sulle bilance, quindi ti faccio passare da qua con i piedi sopra le impronte, esatto, in modo speculare. Guarda dritta. Adesso vediamo come sei allineata. Più alta la testa sinistra. La spalla sinistra segue la testa. Alzo poco poco. Potresti avere fastidio qua, se non sbaglio? O qua? Sì. Ecco, beccato, perfetto. Ok, scendi pure. Morbida. Guarda dritta. Lascia abbandonato come peso morto. Qui va bene. Morbida. Ok. Ok. Inclinando. Tu lavori, studi? Sì. Lavoro. Lavori. Allora. Fastidio qua? Sì. Molto. Molto. Qua di meno, vero? Sì. Se vengo su, fastidio qua? Un po'. Di qua? Di più. Di più. Se vengo in mezzo dovrebbe invece essere passare a sinistra e qua essere un po' meno doloroso. Sento. Mi leggo i capelli? Hai il rilastico? Perfetto, sì, mi faresti un favore, grazie. Rilassata, ti sposto un po'. Io sto sentendo come si muove la tua colonna vertebrale, ok? Sì. Sembra muoversi benone, ti dico la verità. Allora, questa gamba è leggermente più corta di questa, la destra. te lo faccio notare alzando le gambe. Tu lo noti qua dai malleoli. Ci fai caso? Totalmente. Sì, questo. Però poi ruotano bene. Alla luce di quel che ho visto dovresti avere un po' di tensione qua? Sì, molto. Qua meno, vero? Sì. E poi ci dovrebbe invertire qua meno. Scusami. Sì. Qua meno. Quanti dolori che non sapevi di avere, eh? Piero. Se vengo sul linguine dovresti avere un po' qua. Qua meno. Qua meno. Ma sai perché? Perché colpi più sotto. Posso? Vai vai. Assidio? Sì. Qua meno. Meno. Ok, gamba corta a destra, quindi dovresti avere il piccolo pettorale teso qua. Aia. Meno. Mano qua. Mani. Vado a colpo sicuro? Se c'è una piccola differenza, ok? Un po' più corta a destra. Tutto a destra. Questo è un test, eh? Ok. Mani qua su. Adesso sono perfettamente pari, ok? Allora, la gamba con la sciatica è questa. Guarda caso la destra. Sì. Ok, è un po' diminuito qua, eh? I riflessi in generale lo sono. Mettiti così. Adesso. Tira le mani. Stringi i denti. Ok, adesso parte. Rifallo. Qua un po' meno. Su. Spingi. Spento questo, eh? Spingi. Non ce la faccio. Hai mai preso una slogatura qua? Molto probabilmente. E prendo 3.000. Spingi su. Adesso ce la fai. Abbiamo visto che quando ruotavi la testa di qua, eri debole. Sì, infatti mi fa male. Qui, vero? Ok. Faccio una piccola correzione, ok? Assolutamente senza dolore. Sentirei un po' di suono morbida. Aia. Come aia? No, aia è perché è una cosa strana che non ho mai trovato. Sì. Ok. Mani. Piega le gambe. Gira di qua. Gambe di là. Spingi. Ottimo. Inverti. Inverto. Spingi. Perfetto. Ok. Morbida. Devo fare un piccolo massaggio sul piccolo pettorale, perdonami. Fa male, eh? Fa male. Eh, lo so, mi dispiace. Che lavoro fai, Eva? Lattrice. Ah. Però sto molto tempo seduta perché produco anche musica, quindi ore e ore. Ore e ore seduta. Ci vai a Venezia? Adesso c'è la biennale? C'è già ora. Ah, lo so. Però ho deciso di stare su progetti. Stai sul progetto tuo? Brava. Sì. Eccolo. Lì, più su, sì. Perdonami. Lì, ma lì. Non ci torno più dal chilo pratico, punto di. Ok. Quindi. Proprio da assumere, da bere? Cioè, quella vera? Io quando ho l'intestino infiammato, sì, me ne bevo più o meno mezzo vetro al giorno. Succo di aloe, parlo, eh? Sì. Adesso ti aggiusto? Uh-huh. Qui l'avevamo già fatto perché ti inibiva il muscolo. Qui ce n'è uno. Lascia. Ok. Mano qua dietro. Rilassata, rilassata, rilassata. Eccomi. Male? No, piacevole. Ok. Ok. Rilassata. Ha mai fatto lavori con i denti? Ho levato i denti da giudizio. Tutti e quattro? Due. Due non ne ho. Ok. Dove le hai tolti? Sotto. Questo dovrebbe aiutarti a rilassare la muscolatura del volto. Se è troppo me lo dici, eh? No, no. Ok. Un po' di scollamento. Piegamento verso il petto. Ok. Lascia. La morbida, morbida. Ecco, fatto. Wow. Piaciuto? Sì. Qua? Sì. Ecco, è inferiore allora. La vertebra è andata così. Prima ti sblocco l'osso sacro, poi vediamo la vertebra. Vieni sul fianco sinistro per piacere. Porta il braccio avanti. Bravissima. Qui, quando si fanno queste correzioni, non è che basta fare i crack e si risolve il problema. No, certo. Serve sapere esattamente i vettori da adottare durante la correzione. Nel tuo caso l'osso sacro ha portato così, già andato, e poi posteriore. Eccolo qui. Stupendo. Visto? Cosa? L'aggiustamento o il dottore? Questo aggiustamento è stato perfetto. Ah, l'aggiustamento. Vieni qua. Stessa cosa? Yes. Non mi ricordo come si fa. Ci penso io. Cioè, stessa cosa, simile, perché devo prendere un altro contatto. Eccolo qui, la quarta lombare, quella che ti dà noia a te. Lascia. Devo andare superiore, non posteriore, ma superiore. Eccolo lì. Pancia sotto. Sai tutto. Restano pari. Poi, non so se avrai fastidio qua. Sì. Ecco. Questo muscolo era quello che testavo prima, quando toccavi il pube. Ok? Ok, è lo stesso. Esatto, sì. E mi fa malissimo, è il peggiore. E il riflesso che davanti è sul pube, di dietro è qui, tra il bacino e la quinta lombare. Fa male? Un po'. Ok. E poi stimoliamo un po' proprio il muscolo a rilassarsi. Troppe ore seduta? Tantissime. Così, rilassata? Wow. Colpo di tosse. Calcia su. Spingi? Spingi su. Ok. Rilassata? Lascia a me. Vediamo se... No, le spalle stanno bene, non sono bloccate, io controllo sempre. Lascia. Perfetto. Mani così. Bello questo dell'orecchia. Sì, ti apre tutto, vero? Sì. È utilissimo per l'equilibrio. Aiuta un sacco le persone a recuperarlo, alle persone che l'hanno perso e alle persone che già ce l'hanno a non perdere. Spingi lentamente il tuo gomito indietro. Colpo secco, veloce. Forte. Guardami, guardami, devi fare questo. Ah, ok. Vai. Ok, dammi l'altro. Prima lentamente, adesso veloce. Ecco fatto. Riproviamo di là? Prima lentamente, vai. Eccolo là. È tutta tecnica. Mani così, girata di schiena. Chiudi i gomiti davanti a te, tieni stretti stretti, testa giù. Fatti tirare, non camminare, ti tengo io. Stretti i gomiti. Ok. Perfetto, Eva. Come ti senti? Grazie mille. Ci sono... Insomma, non vedo ostacoli alla remissione totale. Va bene? Grazie. Sono un piacere. A lei. Grazie. Sì. Ciao. Ciao. Ciao.